Bella a tutti! Benvenuti al mio canale Da oggi parte Gordon 2.0 Nuovo format Nuove tipologie di video suddivise in playlist all'interno dello stesso canale Più il video fisso settimanale che uscirà ogni martedì Come avrete notato, da oggi i video saranno tutti in HD Swag! E un grazie a tutte le raccomandazioni avute finora che ci hanno fatto fare i veri Big Money e ci possiamo permettere tutto questo Bella raga, alla vostra e vediamo tutti insieme a un nuovo inizio Madonna, ma tu dimmi cosa mi tocca fare per campare Ma magari fossi raccomandato E dopo tutto sto casino Cosa fai? Non ti iscrivi